Benvenuti o bentornati a questo nuovo episodio di DEF in cui approfondiremo o in un certo senso continueremo il discorso iniziato nello scorso episodio. Nello scorso episodio abbiamo parlato di convenzioni e convenzionalismo e vi consiglio di andarlo a recuperare qui oppure qui perché dato che è speculare non so dove andrà a finire la scheda qui. Oggi parleremo invece di nominalismo. Capirete subito il perché i due discorsi sono collegati. Intanto che cos'è il nominalismo? Il nominalismo è una dottrina filosofica secondo cui gli universali o i concetti generali non esistono, ovvero non sono delle realtà anteriori indipendenti dalle cose e non sono né fuori né all'interno delle cose. Si presentano alla mente umana esclusivamente sotto forma di, per l'appunto, nomi. Detto in pochissime parole. Mi gioco quello che volete ma voi non vi siete mai seduti sul concetto di sedia, non avete mai accarezzato il cane e non siete mai stati punti dall'ape o dalla zanzara. Siete sempre stati punti, mi auguro di no ma l'estate è finita quindi credo tutti siamo abbondantemente punzecchiati, da zanzare particolari, da api particolari e ci sediamo su delle sedie particolari, ovvero noi non abbiamo mai visto, sentito, ascoltato, percepito un universale, non abbiamo mai toccato con mano un concetto generale. Motivo per cui, perché dovremmo dire che esiste? Questa è la domanda che si fanno i nominalisti. Cerchiamo di buttarci in mezzo qualche nome. Il più famoso e anche il più carino è Roscellino. Ok, questo non so se tagliarlo o meno, probabilmente lo lascerò. Roscellino di cui in realtà sappiamo pochissimo, se non che diceva che i nomi o i concetti generali non sono altro che è flatus vocis, ovvero è del fiato che esce dalla nostra bocca ma non esiste nella realtà fisica, non fanno parte del mondo i nomi. Più invece, molto più importante e sicuramente molto più conosciuto è Guglielmo di Ockham, Guglielmo d'Ockham chiamato addirittura Princeps Nominalium. Megoglielmo, è quasi dottore. Cioè, nella parata dei nominalisti lui portava la bandiera. E Guglielmo d'Ockham affermava che i nomi, gli universali, i concetti generali, sono delle parole che noi utilizziamo comode, sì, ma che funzionano soltanto per convenzione. E qui ci ricolleghiamo al video di lunedì. Sì, sono soltanto delle convenzioni che ci siamo dati per capirci, ma dobbiamo ricordarci che non esistono nella realtà e non esistono al di fuori delle nostre bocche e delle nostre orecchie. Quindi, Guglielmo d'Ockham dice che le cose sono soltanto particolari. La realtà è piena di individui e di oggetti individuali. Andando, facendo diciamo una zoomata nel periodo di Guglielmo d'Ockham, ovvero nel periodo medievale, ci sarà la famosa disputa degli universali, quindi ci saranno i nominalisti e i realisti, ovvero gli universali, i concetti generali, sono semplicemente dei nomi o sono delle entità che al contrario ci fanno riconoscere gli oggetti particolari. Ovviamente questo pensiero ha le sue radici in Platone, no? Le idee platoniche sono gli universali per eccellenza. Io riconosco questa penna non perché è una penna particolare, ma perché riconosco, o ricordo, in questa penna l'universale, quella che al liceo ci si diverte a chiamare la pennità o la pennitudine o la pennitezza. E quindi tutti gli oggetti della realtà sono copie, sono rifacimenti degli universali che in realtà sono le uniche cose, diciamo, le cose più piene di esistenza, potremmo chiamarle così. Il resto è soltanto una copia scadente. Quindi bisogna vedere se avevano ragione i nominalisti, se avevano ragione i realisti. Il tempo, diciamo, che ha fatto vincere, perché al solito la ragione in filosofia è un oggetto più problematico che altro, il tempo, diciamo, ha fatto vincere i nominalisti. Perché? Perché semplicemente la metafisica alla Platone, come un po' tutte le metafisiche, con il progredire del tempo è andato un po' a scadere. Vero è che nella filosofia moderna il nominalismo ritorna con Hobbes, Hume e forse il più radicale potremmo definire Berkeley. Berkeley addirittura dirà che non solo non esistono gli universali e i concetti generali, ma addirittura non esiste neanche la realtà. Quindi non esistono neanche gli oggetti che ci circondano, ma esistono soltanto delle idee particolari con cui l'uomo giochicchia, con cui l'uomo si inganna e per ingannarsi ulteriormente dà a queste idee particolari dei nomi comuni. Ed ecco che nasce l'universale. Come dicevo prima, il nominalismo, soprattutto nei periodi più recenti, verrà addirittura definito come un sinonimo del convenzionalismo. Quindi tutto ciò che ci circonda e tutto ciò di cui parliamo è frutto di un accordo. Sono parole che noi utilizziamo per capirci e per vivere. Ma stringi, stringi, per le mani non abbiamo nulla. Ora io vi chiedo qui e vi chiedo anche di rispondere nei commenti o... Beh, potete rispondere solo nei commenti, a meno che non abbiate i miei contatti, lì potete contattarmi. Secondo voi qual è la posizione più comoda da assumere e qual è la posizione invece che voi abbracciate maggiormente. Perché sicuramente il nominalismo si fonda su un principio di economia. Perché per parlare abbiamo bisogno di concetti universali. Mettete c'è il cane che tossisce, poverino, sta male. Deve tossire proprio ora mentre faccio il video. E dicevo, ecco, per esempio nei ristoranti voi trovate in alcuni il cartello con... Io non posso entrare l'immagine di un cane. Ovviamente non è quel cane in due dimensioni che non può entrare o il cane lì raffigurato con un cane bianco con le macchie marroni. Non possono entrare tutti i cani. altrimenti ci dovrebbe essere al di fuori di ogni locale una lista infinita con tutti i cani particolari che non possono entrare. Le regole sono fondate perché sono il più universali possibile. Quindi sicuramente sono comode, sono utili, sono funzionali. Però mi chiedo a questo punto una cosa che è tanto utile, una cosa che funziona tanto nella realtà, come facciamo a dire che non è reale? Quindi come facciamo a dire che uno strumento che si intersega in modo così perfetto nelle maglie della realtà sia semplicemente una finzione? A che cosa ci porterebbe questo? Quindi ecco, chiedo a voi, siete dei nominalisti o siete dei realisti? Fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdervi tutte le notifiche, di condividere il video. Non mi sta venendo in mente altro. Se c'è qualcos'altro che viene in mente a voi scrivetelo pure nei commenti, via su, con molta leggerezza. E ci vediamo per il prossimo video.